Siamo nel punto della Bibbia in cui Dio dice ad Abramo, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco, e portalo sul monte di Morià e lì sacrificamelo come sacrificio. Abramo è la bontà assoluta, è l'essere umano che rappresenta proprio il dare oltre a se stesso, tutto se stesso, solo per gli altri, è il non giudicare, è il difendere i malvagi, i criminali. E Dio cosa gli chiede? Di andare a sacrificare il proprio figlio. Questa è una delle dieci prove a cui Abramo è sottoposto e a noi insegna un po' di cose nella nostra vita. Prima di tutto ci insegna che l'essere umano non è fatto per seguire soltanto sempre la logica. C'è qualcosa che si chiama fede e questa fede va al di là della logica. E chi ha aperto questo canale per primo, questa capacità dell'essere umano di credere in qualcosa che va al di là dei propri occhi e del proprio cervello, è per questo che gli ebrei mettono la kippà, perché c'è qualcosa al di sopra della loro mente, è stato Abramo. Ecco, quel momento quando Dio dice ad Abramo, Abramo prendi tuo figlio, Abramo avrebbe potuto rispondere, ma Dio non ho capito, scusa, mi hai promesso che da questo figlio avrei avuto una discendenza pazzesca. E adesso mi dici di portarlo a sacrificarlo e quindi di ucciderlo. Ecco, questa è stata un'ennesima prova di fede di Abramo. Abramo ha chiuso gli occhi e ha detto, se Dio me lo dice, io lo devo fare, perché so che qualsiasi cosa venga da Dio è sicuramente qualcosa di buono. In realtà, forse nel profondo del suo cuore sapeva che Dio non gli avrebbe mai chiesto di fare una cosa simile, ma Dio ha voluto che in quel momento Abramo lavorasse su se stesso, che Abramo andasse contro la propria stessa natura. Questa è una lezione per tutti noi, esseri umani sulla faccia della terra, quando ci vediamo che a un certo punto siamo fermi nella nostra crescita, crescita professionale, crescita spirituale, crescita morale, crescita come genitori, come figli. A un certo punto della nostra vita ci viene richiesto, per poter diventare qualcosa di molto migliore, di andare completamente contro la nostra natura. Questo è quello che chiede Dio ad Abramo. Abramo, tu che sei il bene, la bontà assoluta, vai contro la tua natura. Prendi e lavora su te stesso in modo che tu possa avere un po' di rigore. Vai e prendi questo tuo figlio, anche se contro la tua natura non lo prenderesti mai. Però Abramo da questa prova esce che è un'altra persona, una persona che scopre dentro di sé delle forze che non sapeva di avere. E con noi, per diventare delle persone diverse, dobbiamo prendere e uscire dalla nostra comfort zone. Cos'è il comfort zone? È quello che fa parte della nostra natura, per poter diventare delle persone ancora più grandi, persone che possono cambiare il destino, non solo nostro, non solo da nostra famiglia, da nostra azienda, da nostra società, ma di tutto quello che verrà dopo di noi. Noi dobbiamo essere capaci di guardarci dentro e dire ok, c'è un piccolo cerchio dentro il quale io sto ogni giorno, ma per poter diventare una persona migliore e diversa devo saltare fuori da questo cerchio. Devo guardare anche cose e pensieri che la pensano diversamente da me. Devo ampliare i miei orizzonti. Devo combattere contro la mia natura e cercare di diventare qualcosa che prima non ero. Ecco, quando una persona combatte contro la sua stessa natura, si chiama in termini ebraici Oved Hashem, una persona che serve veramente Dio, perché una persona che serve Dio fa fatica e quando tu segui la tua natura non fai fatica. E allora Abramo è il primo che va contro la sua stessa natura e ci dà la forza a ognuno di noi, migliaia di generazioni dopo, di combattere contro tutto quello che è il nostro schema mentale, questa nostra comfort zone, e saltarci fuori e diventare delle persone ancora migliori. Grazie. Grazie.